Volevo sposare una persona, ma ora farò la proposta a un'altra donna. Mi prendi in giro? Avevo dei dubbi sul fatto di non avere ancora provato quello giusto alla mia età. Non molti uomini parlano tra di loro di queste cose come facciamo noi. Puoi programmare un futuro con qualcuno e poi quella persona non c'è più. Tesoro, sto piangendo. Lei è dall'altra parte del muro. Devi farlo. Vuoi sposarmi? Sono fidanzata. Che bel tipo. Non ci posso credere. Mi fa un effetto strano. Vuoi sabotare la mia vita? Terrò gli occhi ben aperti per te. Sono diventato adulto tutto d'un colpo. Viviamo sotto lo stesso tetto. Impegnarsi per tutta la vita comporterebbe una quantità di rischi davvero enorme. Pensi che sarai in grado di dire sì? Non voglio dei suoceri che mi odino. Se tra Romeo e Giulietta non ha funzionato c'era una ragione. Lui vede cose in me che a volte nemmeno io vedo. Abbiamo dato vita a una connessione emotiva molto proposta. Però una settimana mi sposo. Tu hai dei dubbi? Ho la sensazione di dover accettare molti compromessi. Non facciamo sesso noi due. Mi fai venire l'emicrania. Jackie non è alla prova dell'abito. Ma la pressione è tanta. Non doveva succedere. La cosa migliore che posso fare per noi è darti l'opportunità di rispondere per primo. Scott e Fisher! 9. Grazie a tutti.